Laudri di automobili smascherati dai carabinieri. I forti di molte auto del valore di oltre 100.000 euro messi a segno tra maggio e giugno del 2023 nel parcheggio del centro commerciale sono accaduti in poco meno di un mese e finalmente i carabinieri hanno individuato i responsabili. I militari della compagnia dei carabinieri di Battipaglia diretti dal capitano Samuele Bileti hanno arrestato il ladro che ha compiuto i furti dei veicoli ed hanno denunciato a piede libero il complice. Il primo residente a Nocera Superiore e il secondo a Montoro nella Velinese. L'abburreosa l'attività di indagini dei carabinieri che per smascherare i due ladri hanno acquisito i filmati realizzati dal sistema di videosorveglianza nel parcheggio del centro commerciale in cui erano immortalati i malviventi in azione. Poi gli investigatori hanno monitorato il transito dei veicoli rubati. Nel mirino dei ladri sono finiti sei Fiat Panda e una Fiat 500 che sono state rubate dai due malviventi che sono imputati anche del reato di ricettazione di altri automobili, sempre Fiat. Dopo le prime denunce dei proprietari delle automobili, tra cui quella di un giocatore della Salernitana, in riferimento alle auto che sparivano nel nulla, i carabinieri hanno intensificato i controlli. In un solo mese sono state rubate otto auto e poi grazie ai filmati gli investigatori sono riusciti a risalire ai ladri che puntavano a rubare soprattutto auto Fiat.